Antonella Sportelli, 43 anni, originaria di La Terza e residente a Palagiano, Stefano Tagariello, 36 anni di Palagiano, Alessandra Berardi, 32 anni di Palagianello. Sono state identificate le tre vittime del tragico schianto avvenuto nella serata di venerdì 3 febbraio sulla strada statale 7 tra La Terza e Castellaneta, un bilancio pesantissimo causato dallo scontro frontale tra un'Alfa Romeo rossa su cui viaggiavano le vittime ed un furgone Fiat Fiorino bianco alla guida di quest'ultimo un uomo di Ginosa rimasto gravemente ferito e che in queste ore lotta tra la vita e la morte all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni al momento sarebbero stazionarie. Per estrarre i corpi delle tre vittime e dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alle equip sanitarie del 118 e i carabinieri di Castellaneta. Proprio i militari in queste ore stanno provando di costruire la dinamica che ha portato all'ennesimo dramma della strada in Puglia sempre in provincia di Taranto il 22 gennaio scorso tra Martina Franca e Massafra l'incidente mortale che ha tolto la vita a tre giovani i fratelli Leonardo e Antonella Carucci rispettivamente di 19 e 13 anni ed il ventenne Leo Conte mentre sulla La Terza Castellaneta nel 2016 non distante dallo stesso punto del sinistro di ieri cinque persone persero la vita in un altro incidente. Antonella Sportelli, Stefano Tagariello e Alessandra Berardi lasciano le rispettive famiglie che in queste ore sono state raggiunte da diversi messaggi di cordoglio. Un tragico lutto ha colpito il nostro territorio ha scritto il sindaco di La Terza Franco Frigiola esprimo il mio sentito cordoglio le famiglie e poi ancora il messaggio di Maria Rosaria Borracci primo cittadino di Palagianello in questa triste circostanza mi unisco al dolore delle famiglie. Gianfranco Lopane assessore regionale in passato sindaco di La Terza ha parlato del sinistro come l'ennesimo di una scia di sangue apparentemente quella strada è un rettilineo ha spiegato Lopane ma è piena di insidie e non ha le corsie d'emergenza alcuni mesi fa ha ottenuto un incontro con Anas e sono a conoscenza del fatto che la strada sia stata inserita come intervento urgente ma serve un'ulteriore presa di coscienza afferma Lopane per affrontare questa emergenza che rappresenta un intervento improcrastinabile